Stonehenge, un misterioso e mastodontico complesso preistorico di 93 enormi pietre disposte circolarmente nel sud dell'Inghilterra. Quando è stato costruito? E perché? Stonehenge, che letteralmente significa pietra sospesa, è stato costruito circa 5.000 anni fa, nel 3.000 a.C., anche se gli insediamenti nel luogo potrebbero risalire addirittura all'8.000 a.C., bene 10.000 anni fa. Perché sia stato costruito, resta invece ancora un mistero. Alcuni, come il grande fisico Isaac Newton, immaginarono che il complesso avesse funzioni di tipo astronomico. Ma teorie più moderne affermano che si trattasse di un luogo addibito ai riti funebri, e quindi per i morti, o di un posto magico e dai poteri curativi, e quindi per i vivi. In realtà non sappiamo nemmeno quale fosse l'esatta posizione delle pietre, che furono sistemate nell'attuale forma dagli ingegneri inglesi, nell'Ottocento, in epoca vittoriana. Insomma, il significato di questo luogo, patrimonio mondiale dell'umanità dal 1986, resta ancora un grande mistero, cosa che però lo rende ancora più suggestivo. Conoscevi questa storia? Seguici per molte altre curiosità.